E' stato ritrovato con il cranio fracassato, aperto come un libro, riverso sul pavimento della cucina in un lago di sangue. Renato Belisari, 77 anni, ha perso la vita così nella sua abitazione a Intermesoli, una frazione del comune di Pietracamela, ai piedi del Gran Sasso. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto dai vigili del fuoco, chiamati dai vicini di casa, che non avevano notizie di Belisari da qualche ora. D'altra parte, in questo periodo, a Intermesoli, non vivono più di una trentina di persone, tutte racchiuse in un fazzoletto e dunque non è difficile accorgersi dell'assenza di qualcuno. Che si tratti di omiciglio non ci sono dubbi, anche se in un primo momento, ieri sera, quando è stato ritrovato il cadavere, in molti hanno pensato a un incidente. Una volta fatta l'ispezione cadaverica, si è capito che l'uomo era stato colpito più volte alla testa con una violenza inaudita e con un corpo contundente. E soprattutto sono state le tracce ematiche a far capire che di morte violenta si trattasse. Non sarà un caso di facile soluzione, anche se il luogo e le modalità farebbero pensare che qualcuno, magari, qualcosa abbia visto o si sia accorto di qualche strano movimento. Belisari aveva vissuto per molti anni in Canada, dove ancora si trovano la sorella e una nipote. Era tornato in Italia, aveva venduto delle proprietà e godeva di una pensione. Era molto attento alla gestione del denaro e questo potrebbe far sì che all'interno dell'abitazione avesse una somma importante. Non è escluso dunque l'omicidio per rapina, ma anche la pista del delitto passionale non sarebbe da mettere da parte, anche se l'uomo viveva da solo e non riceveva mai visite. La stranezza sta anche nel fatto che in un paese così piccolo l'arrivo di qualcuno che non sia del posto non passerebbe inosservato, visto soprattutto la posizione dell'abitazione di Belisari che per di più era solito assentarsi per mesi per andare a trascorrere periodi di vacanza in alberghi della provincia. Questa volta era rimasto lontano da Intermesoli solo per pochi giorni ed è l'unica stranezza di una vita regolare e ripetitiva fatta di soliti gesti e abitudinaria. Su queste circostanze indagano gli inquirenti.